Mamma, cosa prepari oggi? Ti preparo una cosa buonissima! Oh no, che cosa sono? Innanzitutto lo andiamo a raccogliere. Per riconoscere l'aglio orsino bisogna osservare la foglia lucida avanti e opaca dietro. Io vado a giocare, che è meglio! I fiori devono essere questi. Li mettiamo in ammollo con acqua e bicarbonato. Asciughiamo bene e trasferiamo nel mixer. È forte la faccia che fai quando spezzi le cose! Che faccia faccio! Aggiungiamo i semi di girasole, sale e olio. Tutto troppo verde per me! Ok, mettiamo anche il parmigiano. Chissà che c'è! Sarà buonissimo! È come un pesto! Esatto, è un pesto e sai che fa benissimo. Purifica la pelle e previene la caduta dei capelli. Questo non mi interessa! Se volete conservarlo ricoprite con un po' d'olio, dopodiché potrete condire la vostra pasta al momento. Con la pasta sì, va bene! Oh, meno male!